Ragazzi, la terza domenica di avvento è chiamata anche la domenica gaudete, la domenica della gioia. Proviamo a capire perché. Gioia vuol dire un'incontenibile soddisfazione, una felicità grande. Avete presente come fare un gol, come fare un balletto in modo stupendo, come avere l'affetto delle persone? Ci sono dei momenti in cui proviamo una profonda gioia. Eppure nel Vangelo di oggi, dove troviamo di nuovo Giovanni il Battista, lui è pieno di dubbi. E il dubbio è un'incertezza, un'esitazione, non so bene che posizione prendere su un argomento. E sapete qual era l'argomento? La vita di Gesù. Giovanni è in prigione e ha il dubbio che Gesù non sia il Messia. Un dubbio di fede, un uomo grande come lui. Gesù l'ha definito il più grande che mai esistito sulla Terra e anche lui ha dei dubbi. Come si può, ragazzi, passare dal dubbio alla gioia. Facciamo un esempio. Ho un dubbio. Non so se quella persona mi vuole bene. Non so se quel gruppo mi accetta. Non so se quello che faccio è bello, buono, giusto per qualcuno. Ho dei dubbi. Quando scopro che invece c'è un sì, quella persona mi vuole bene. Ecco, arriva la gioia. Prima c'era il dubbio, adesso c'è la gioia. Come si fa a passare dal dubbio alla gioia senza risolvere il dubbio velocemente? Pensate un po'. Dio esiste o no? Non so bene se Dio esiste. Posso fare una cosa, tagliare alla radice il problema. Dio non esiste. Così non ho dubbi. Posso dire, ma no, quella persona non mi vuole bene. Non le parlo più. Chiudiamola lì. Non vado avanti. Non faccio il percorso verso la gioia. A volte è un percorso anche difficile. O altrimenti posso fare il percorso che dal dubbio porta alla gioia. E scoprire che Dio esiste, che è parte di me, che lo riconosco proprio in quella persona che cerca di vivere il Vangelo e mi fa vedere Dio. Allora, proviamo un po' a capire come fare questo percorso. Vediamo come. Giovanni Battista è in prigione e è assalito dai dubbi su Gesù. In più, i suoi discepoli gli dicono che Gesù fa attenzione agli ultimi, ai peccatori, mostrano dei segni concreti. I ciechi vedono, gli ezzoppi camminano, i lebrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri ha annunciato il Vangelo. Ed è la risposta che dà ai discepoli, che erano stati mandati da Giovanni Battista per dire, andate un po' a chiedere a Gesù se è lui il Messia o se devo aspettarne un altro. E Gesù non dice sì o no, come era abituato a fare. Dice, guarda, guarda che cosa succede. Vedi che Dio esiste? Perché Dio fa attenzione agli ultimi. Invece Giovanni Battista aveva un'altra abitudine, quella di vedere un Dio che giudicava un po' quelli che sbagliavano. Domenica scorsa aveva detto, la scure è già ai piedi dell'albero e ritaglierà via se sbagliate. Oh mamma mia! Bisogna lavorarci attorno, ci dice Gesù. Zappaci attorno. Concima. Innaffia. Piano piano, anche quella pianta che non produce più nulla, vedrai che produrrà qualcosa. Ragazzi, davanti al dubbio, usiamo la scure o usiamo la zappa? Diciamo ma no, tanto Dio non esiste. Quella persona non mi vuole bene. No no, ci lavoro attorno. Voglio capire bene. Voglio approfondire, perché quando uscirò dal dubbio con la zappa, sarò molto più forte. Ma ragazzi, succede anche con le persone. Quando un vostro amico vi dà un po' fastidio, usate la scure? Taglialo via dalla mia vita. Bon, basta, con te non ho più niente da fare. Uso la zappa. Provo un po' a zappare, a concimarli attorno, a vedere se c'è un cambiamento. Ecco, vedete, Dio non usa la scure. Dio usa la zappa. È un po' come quell'agricoltore che ci ricorda Giacomo nella seconda lettura di oggi che concima con costanza. Siate costanti, come è l'agricoltore. Vedete, Giovanni il Battista aveva un'idea di Dio che escludeva i peccatori, che li metteva da parte. Gesù ha un'altra idea di Dio. Bisogna andargli incontro. Anche quello che è più fragile, anche quello che sbaglia. Fatti amico, zappagli attorno. Continua a relazionarti a lui, non tagliarlo via. Vedete, a un certo punto, Giovanni il Battista dice se non è lui, io aspetto ancora. E qui fa la differenza, perché ha una grande fede. Sì, io sono abituato a usare la scure. Voglio, taglio via le persone che non mi piacciono. Escludo. Se Dio, non so bene se esiste o no, vabbè, non mi pongo il problema, lo taglio via. O altrimenti no, ci zappo attorno. Zappo attorno la mia vita, provo ad approfondirla. Io so che tu arriverai. Se dovessi aspettare ancora, lo farei. Sembra dirci Giovanni il Battista. Allora, vedete, oggi ci viene chiesto questo. E Gesù, in più, ai discepoli di Giovanni il Battista, dice Ma, sentite un po', chi siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento, uno vestito di vestiti preziosi, no, quelli stanno nelle regge. Siete andati a vedere un profeta. E il profeta non usa la scure, usa la zappa. Allora, ragazzi, provate un po' a pensare. Prendete un foglio, scrivete sopra. Quante volte avete usato l'ascia? La scure. Per tagliare via gli altri. E per tagliare via anche Dio dalla nostra vita. Non pregavo più, non leggevo più il Vangelo. Andavo al catechismo con poca voglia. Sì, sì, ho fatto quei sacramenti, comunione e cresima. Ma tagliati via dalla mia vita. Arrivo alla cresima e poi taglio via la chiesa. Non partecipo più. Via tutto, tagliamo, tagliamo, tagliamo. E il dubbio continuerà a rimanere. E invece, su un'altra parte del foglio, provate un po' a pensare alle volte in cui avete zappato attorno alle persone. Le avete curate? Avete fatto attenzione a loro? E scoprirete che cosa fa Dio nella nostra vita. Ci ama così, con misericordia. Vedete, questa è la grande gioia. sentirci amati gratuitamente, per nulla. E non sentirci tagliati via, ma sentire che Dio si cura di noi. E a volte, quando siamo un po' secchi, portiamo poco frutto, siamo molti egoisti, egocentrici, ci zappa attorno e ci lavora. Allora, ragazzi, che cosa ha fatto Dio nella tua vita? Che cosa hai fatto tu per Dio? Hai usato la scure o hai usato la zappa? Che cosa hai fatto tu per gli altri? Hai usato la scure o hai usato la zappa? Una buona gioia a tutti e che arrivi anche dopo un grande dubbio. Ma mi raccomando, non tagliatelo mai quel dubbio. Lavorateci attorno. Lavorateci attorno. Lavorateci attorno. Lavorateci attorno. Grazie a tutti.